Questa è una visione particolare che possono certe volte ammirare i turisti che riescono ad andare sulla cattedrale di Santo Stefano e quindi possono ammirare i campanini, le guglie di questa bellissima cattedrale e poi un panorama della città. Vedete anche i monti sullo sfondo. Abbiamo utilizzato anche, non solo, ma anche le slide realizzate da un alunno che si chiama Samuere Di Fabio e che le ha pubblicate su internet. E qui potete vedere il bacio di Klimt, potete vedere Mozart, è uno dei palazzi di cui parleremo adesso, dei palazzi degli Asburgo. Ecco, Vienna è, anzitutto c'è da dirlo, la capitale dell'Austria, una tra le prime città del mondo per l'ottima qualità della vita, una capitale ricca e fiorente, soprattutto grazie al turismo, ricca di arte e di cultura e poi vivace. Perché, ne parleremo, 150.000 giovani si trovano a studiare a Vienna e provengono spesso da tutte le parti del mondo. È un polo di attrazione dei giovani, Vienna, ma come vedete molti sono gli scorci o le carrozze o i cavalli o i palazzi, vedremo, che rammentano il passato nobile, aristocratico, di Vienna. Vienna è tra le città con il minor tasso di disoccupazione al mondo, addirittura. Bene, proseguiamo il nostro percorso proprio andando a visitare uno dei palazzi più importanti di Vienna. Si chiama Hofburg. Hofburg è il palazzo, appunto, dei... Ecco, intanto, ovviamente, come al solito, ho perso un foglio della mia presentazione, e quindi un foglio dei miei appunti. Vado a cercarlo un attimo, perché non riesco assolutamente a... Intanto, godetevi questa slide sulla Hofburg, quindi sul palazzo... Palazzo invernale, chiamiamolo così, degli Asburgo. Arrivo. Arrivo. Eccomi qua. E così come vi stavo appunto dicendo, ovviamente per preparare queste dirette, studio, preparo le slide, preparo i miei fogli di appunti, e poi magari li dimentico o non li trovo nel momento opportuno. Ecco, stavamo dicendo che la Hofburg è la residenza invernale degli Asburgo, in realtà non è un palazzo solo, ma un grande complesso di singoli castelli, palazzi, musei, che arricchisce proprio il centro della città di Vienna. Cioè la Hofburg la trovi nel centro della città, dopo avremo una cartina di questa città, e così quando tu vai a visitarla hai un insieme di palazzi, di musei da visitare, solo per quanto riguarda quella che è la residenza imperiale più importante, più centrale, insomma, della dinastia degli Asburgo. Ecco, fino al 1918, infatti, l'immenso complesso del palazzo imperiale che sorge nel cuore di Vienna fu il centro politico della monarchia. La monarchia cadde appunto, gli Asburgo caddero con la fine della Prima Guerra Mondiale. Tutto ciò rende la Hofburg una destinazione di enorme interesse per il pubblico appassionato dell'epoca degli Asburgo. Ci sono tanti nostalgici. Io ho avuto il piacere di visitare Vienna con un grande nostalgico degli Asburgo. Il mio amico, che adesso è professore di una facoltà di teologia a Lugano, in Svizzera, il mio amico, dicevo, proveniva da Trieste e in tutta la sua famiglia si viveva una grande nostalgia, un rimpianto per l'epoca in cui Trieste era il porto degli Asburgo e per quella città grandissima, cosmopolita, che accoglieva persone provenienti spesso dall'est, proprio come la famiglia di origine del mio amico. Infatti si trattava di un impero multietnico. Avevano tanti difetti gli imperi come quello asburgico, quello ottomano, ma avevano anche dei pregi. Erano infatti sovranazionali. Erano un insieme di popoli, di nazioni che avevano imparato a convivere insieme. Io ho letto tantissimi libri di Josef Roth che testimoniano di questo. Gli amici che mi conoscono, che mi stanno seguendo da tempo anche su YouTube, sanno che ho dedicato a Josef Roth tantissimi miei contributi, video. ne sto leggendo anche, o sto per leggerne, altri due. Quindi due li ho già letti e recensiti su YouTube. E sarebbero tre, sarebbero La leggenda del santo bevitore, Giobbe e La cripta dei cappuccini. In particolar modo La cripta dei cappuccini è un romanzo che prende il titolo proprio dal luogo in cui venivano sepolti gli Asburgo, e quindi un luogo che è ricco di una storia, di una tradizione. E proprio questo romanzo della cripta dei cappuccini ci rappresenta la parabola terminale degli Asburgo, che tra l'altro hanno terminato la loro storia con un re Carlo, insomma, che era una persona estremamente religiosa, una persona molto profonda, veramente un santo, ma che si è trovato a guidare l'impero asburgico ormai nei suoi anni finali, terminali. Proseguiamo la nostra visita alla Hofburg. Qui potete vedere, per esempio, dove c'è un parcheggio, è un altro ingresso, ha tanti ingressi questa Hofburg, è una specie di labirinto, se voi andate a vedere. Gli spazi verdi sono limitati, perché è proprio centrale, nel centro di Vienna, ma è affascinante proprio andare a vedere i vari musei appunto della Hofburg, dove si presentano, non so, le porcellane, piuttosto che gli ori degli Asburgo, quindi le decorazioni. Ecco, con il mio amico, con i miei amici universitari, perché ovviamente ho visto Vienna ai tempi dell'università, abbiamo anche assistito ad uno spettacolo di cavalli. Infatti, uno dei saloni, un salone immenso, grandissimo, che è coperto tutto a terra, diciamo così, è proprio il salone della scuola di equitazione spagnola, che tiene degli spettacoli appunto per i turisti quotidianamente a tante ore del giorno. Vi suggerisco di andare a vedere queste cose, così come il museo delle argenterie di corte, i servizi da tavola, le magnifiche alzate che misurano fino a 30 metri di lunghezza, le tovaglie di inestimabile pregio, insomma le tradizioni, i fasti imperiali ecco che rimangono, rimane qualcosa in questo palazzo della Hofburg. Oppure si può andare a visitare il museo delle belle arti, in cui si testimonia insomma di come gli Asburgo fossero anche degli straordinari collezionisti d'arte. Quindi un po' come la galleria, somiglia un po' alla galleria dell'Accademia di Firenze, se vi è capitato di vederla, anche con tante riproduzioni o rifacimenti o copie di sculture classiche. Ecco, accanto a questa residenza invernale c'è la residenza estiva, Schöndrün, il palazzo di Schöndrün, così viene chiamato, che è un po' più in periferia e difatti questa è immersa all'interno di vastissimi giardini con delle fontane, delle aiuole piene di fiori, davvero straordinari. È uno dei luoghi più importanti di Vienna, resistenza estiva degli Asburgo, per lo più costruita sotto Maria Teresa nel XVIII secolo, nel senso che si cominciò a costruire il palazzo di Schöndrün verso gli inizi del 1700, ma ovviamente si trattò di un palazzo che è un po' come la regia di Caserta, non so se la conoscete, che impegnò tantissimi operai, ovviamente, e anche tanto tempo per essere concluso questa costruzione. è una delle più importanti attrazioni di Vienna, dal 1966 è stato dichiarato patrimonio nazionale dell'UNESCO. Ecco, vi dicevo, gli spazi, piuttosto che i giardini, le ville. Adesso vedremo anche le varie attrazioni collegate a questo palazzo centrale, rendono una visita a Schöndrün qualcosa davvero di irrinunciabile, poiché Schöndrün per gli Asburgo doveva, come dire, rivaleggiare con Versailles. Quindi pensate a che livelli straordinari siamo, di bellezza. Eccolo qui, forse con una foto ancora più nitida e più primaverile, ecco, l'ingresso di Schöndrün con tutte le aiuole in fiore. Sicuramente qualcosa da vedere senza alcun dubbio quando si arriva a Vienna. Anche lì tante sale con tanti dipinti, per esempio questo è il dipinto di uno degli Asburgo, si chiamava Ferdinando I. In realtà fu Ferdinando II, soprattutto, che costruì Schöndrün. Però, proprio per ricordare i suoi antenati, si fecero quadri, oppure comunque si appesero dei quadri nelle varie sale e stanze, insomma, di questo sontuoso, enorme palazzo di Schöndrün, dove si realizzò l'amore tra la principessa Sissi e Francesco Giuseppe. Una storia tormentata, alla quale si dovrebbe dedicare una diretta live, perché è iniziata in un modo così romantico, poi si sviluppò in modo più tormentato, verso la fine dell'Ottocento. Quando andate a Schöndrün potete vedere, ad esempio, la voliera, quindi con gli uccelli, oppure potete vedere la serra delle palme, il gusto quindi, per esempio, di portare, di far vedere a Vienna, delle piante anche esotiche, di origine addirittura tropicale, oppure la Sonne nur Haus, cioè la casa del tramonto, la casa del sole che cala, ecco, Sonne nur Haus. Giusto per dirvi solo alcuni di questi edifici. Ecco, mentre la Hofburg è tutta concentrata, invece qui gli spazi di Schöndrün sono molto più ampi e ci sono tante chicche, insomma, tanti tesori da visitare. È uno dei più grandi palazzi dell'Austria e potremmo dire anche in generale dell'Europa. Milioni di visitatori all'anno. Si può accedere al parco di Schöndrün senza pagare il biglietto. È un ottimo posto anche semplicemente per fare delle passeggiate. Qui, per esempio, uno dei tanti labirinti. C'è un labirinto vecchio e un labirinto nuovo. Per chi vuole divertirsi, insomma, a passare del tempo in mezzo a queste siepi, appunto, tagliate a mo' di labirinto. Eccolo qua, la cartina di Vienna che vi avevo promesso prima, dove potete vedere la rappresentazione di quello che abbiamo già iniziato a vedere, a intravedere la cattedrale di Santo Stefano e la Hofburg, proprio al centro di Vienna, abbastanza vicino al centro, il palazzo della Secessione, la Secessione viennese. Adesso ne parleremo più approfonditamente. Poi il Danubio. Non dimentichiamo, infatti, che Vienna è attraversata nella parte orientale proprio dal fiume Danubio. Poi c'è la periferia cittadina, soprattutto quella invece ad ovest, pianeggiante, fortemente industrializzata, anche a sud, più che altro a sud, e invece più colline verso nord. La città di Vienna, poi la vedremo inserita all'interno della nazione dell'Austria, si trova nella zona settentrionale, verso nord e nord-est dell'Austria. Ovviamente in Austria si parla il tedesco. Ecco, il grande e assurdo e pazzo progetto, infatti, di Hitler era quello di annettere, progetto riuscito purtroppo, di annettere l'Austria, perché considerava l'Austria non come uno stato a sé stante, a parte, ma come uno stato che doveva appartenere al suo progetto della grande Germania. Vienna è un clima continentale, mediamente mite. L'inverno comunque è lungo, è rigido, è spesso nevica nella città di Vienna. L'estate è mite, quindi non caldissima, a volte si possono raggiungere comunque delle temperature calde, noi siamo andati lì proprio in estate, vale la pena andarci d'estate, e piove spesso anche in estate. Proseguiamo la nostra visita della città, per esempio, nella strada del Graben, la strada dove io e i miei amici universitari abbiamo fatto un'esibizione, ci siamo messi a cantare, a suonare la chitarra, siamo stati molto apprezzati, tant'è vero che ci hanno dato dei soldini con i quali ci siamo potuti permettere un gelato. Ci sono in questa strada davvero da attraversare, perché per fortuna non ci sono macchine in questa strada, per visitare vari negozi, fare shopping, sono banche, eccetera. Poi, appunto, dicevamo il Duomo di Santo Stefano, che abbiamo visitato insieme, progettato nel 1137, ridisegnato nel XIII secolo, è l'edificio gotico più importante di tutta l'Austria. Affettuosamente chiamato Stefl, dai viennesi, famosa la Pummerin, una campana che pesa quasi 22 tonnellate ed è alta 3 metri. Ecco, come vedete, un po' come nel Duomo di Milano, spesso ci sono dei lavori di consolidamento, insomma, di manutenzione di questo straordinario edificio che è il Duomo di Santo Stefano. Oppure potreste vedere il Parlamento, costruito sul modello del classicismo, in una sorta di rifacimento dell'antichità greca, diverso, come vedremo, dal Parlamento ungherese, che invece ha come modello quello di Londra. Qui invece lo vedete, proprio un tempio, come fosse una specie di rifacimento di un tempio greco. Anche lì, comunque, anche in altri parlamenti, la struttura classica c'è, ma con elementi diversi, tutti dorati, come vedremo, quello di Budapest e quello di Londra. Il municipio, costruito in stile neogotico, la parte anteriore dell'edificio, a cinque torri sulla torre centrale, alta 100 metri, si trova la statua del Rathausmann. Ecco, arriviamo al Prater. Probabilmente, se avete in mente la cartina di prima, abbiamo già visto, che il Prater, sarebbe una specie di parco giochi di Vienna, chiamiamolo così, si trova verso Danubio, quindi verso la parte orientale della città. Il Prater è un parco divertimenti del 1800, addirittura. Quindi non è come, non so, Disneyland, piuttosto che Gardaland o Disneyland Paris, insomma, parchi, gioco, costruiti, o quelli vicino, per esempio, a Ravenna, come Mirabilandia, costruiti negli ultimi decenni. No, è una storia molto, molto più lunga. Numerose le giostre, i circuiti, i poligoni di tiro, famosissima, soprattutto la ruota panoramica, dalla quale si gusta una bellissima vista di tutta Vienna. Io personalmente mi sono preso uno spavento con le montagne russe, che per me sono, anche se non sono assolutamente paragonabili ad altre montagne russe, molto, molto più pericolose, chiamiamole così, per me erano davvero, sono state il massimo della mia esperienza riguardo a questo tipo di attrazione. È molto più lenta, invece, godibile, la ruota panoramica, famosissima, costruita nel 1897. Rimaniamo sulla ruota panoramica. 1897, capite? È stata costruita nel 1800, eh? In occasione dei 50 anni del reno dell'imperatore Francesco Giuseppe, divenne da subito un luogo di incontro per viennesi. Fu incendiata durante la guerra, ma nel 47 fu ricostruita e ritornò in funzione. Ancora oggi una delle maggiori attrazioni della città, da cui si gode, come dal tetto, vi ricordate, di Santo Stefano, si gode una vista magnifica. Proseguiamo il nostro viaggio a Vienna. Non può mancare, infatti, una visita al Leopold Museum, dove, detto in inglese, museum, invece, detta alla tedesca, più o meno, dove ci sono molte opere, ad esempio, di Egon Schiele. Oppure, vedere l'architettura moderna, la moderne Sehen Würdigkeiten, Würdigkeiten, un'opera tipica del famoso artista Friedrich Unterwasser, compresso residenziale con diverse finestre, cupoli a cipolla, pavimenti ondulati, pareti inclinate, architettura giocosa, insomma. Bah, potremmo definirla così. Un po' di... Insomma, ricordate anche, abbiamo visto, per esempio, quella Casa Liberty a Torino, oppure Barcellona. Ci fa venire in mente un po' queste cose, ecco. Questa architettura moderna, anche presente anche a Vienna. Ah, questa è quella che abbiamo visto prima, la Riesenrad, la Viener Riesenrad, la ruota panoramica viennese, di cui abbiamo parlato prima, che come vedete è in funzione anche di notte. Ho sbagliato a sistemare le slide. Ecco, alcuni di quegli studenti che popolano la città di Vienna, nella quale si contano dieci università. tanti musei. Ecco, prima, per esempio, torniamo un attimo indietro. Abbiamo visto il Leopold Museum, eccolo qua, ospitato presso il Museum Quartier, cioè il quartiere dei musei a Vienna. Alloggia una delle più vaste collezioni d'arte moderna austriaca e contiene la più grande raccolta mondiale di opere di Egon Schiele. Ma ci sono in questo museo anche opere e quadri di Gustav Klimt, Oskar Kokoschka e Richard Gerstel. Ci sono anche musei con tante opere anche di autori italiani. Spesso ci tocca, insomma, andare a vedere le opere dei nostri artisti e pittori a Vienna, piuttosto che a Lombra o a Parigi. lo sappiamo del resto. Molto belle le residenze dove è vissuta, ha vissuto alcuni dei suoi momenti più importanti, la principessa Sissi. Ecco, stavamo parlando adesso della musica. Ecco, tra i vari compositori austriaci dobbiamo ricordare almeno appunto Mozart. Ecco, Mozart indubbiamente è il compositore di musica classica al quale sono più legato. Nessun compositore di musica classica, infatti, è in grado di sollevarmi. Io uso solamente questo verbo perché non riesco a trovare altra definizione per la musica di Mozart. Qui sono ricordate alcune delle sue opere, Il Fauto Magico, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, ma io ascolto soprattutto la musica orchestrale, sinfonica, piuttosto di quella lirica, e quindi adoro qualsiasi tipo di composizione di Mozart. c'è un concerto per oboe e orchestra che io ho ascoltato talmente tante volte che, insomma, mia moglie e i miei figli a un certo punto mi hanno detto senti, mettine un altro. Va bene. Allora, da quel momento in poi mi sono ridotto a passare a concerti per flauto orchestra che sono altrettanto eccezionali, strabilianti, vi assicuro, quelli di Mozart, Sinfonia 40, insomma, piccola serenata notturna e ovviamente riconoscerete queste musiche. Tutti gli anni a Capodanno poi andiamo a come dire su Rai 2 alle ore 13.30 ad assistere al concerto di Capodanno che viene trasmesso da Vienna dove si suonano soprattutto le musiche di Johann Strauss il padre e Johann Strauss il figlio non solo però anche musiche di altri compositori. All'inizio il Walzer viennese era un ballosceno era messo da parte considerato quasi scandaloso ma con il congresso di Vienna del 1815 e appunto con l'affermazione di questi due compositori soprattutto del figlio Johann Strauss il figlio il Walzer viennese divenne una moda che conquistò tutti Strauss compose oltre a molte operette marci e altri balli circa 200 Walzer anche se infatti Johann Strauss il figlio soprattutto è noto come il red del Walzer la sua più famosa composizione è il Walzer Anverschönen Blauen Donau sul bel Danubio blu eravamo andati a Vienna anche perché avevamo un gruppo di universitari che aveva studiato il tedesco quindi mi è rimasta comunque questa passione per questa lingua molto molto originale a dispetto diciamo così di quanto le nostre reminiscenze ahimè della seconda guerra mondiale è una lingua molto musicale e ce l'hanno dimostrato musicisti sublimi come Johann Sebastian Bach e appunto vi dicevo Wolfgang Amadeus Mozart che sono indubbiamente i miei due musicisti preferiti ecco appunto vi dicevo sul bel Danubio blu è del figlio mentre la marcia di Radetzky è del padre e questi due brani non possono mai mancare nel concerto di Capodanno altro importante compositore che io conosco dico la verità molto 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 meno è Franz Lehar il compositore della vedova allegra e questo è lo spartito del al bel Danubio blu Anders Schönenblau di Johann Strauss il figlio ovviamente quando siamo andati a Vienna ci siamo deliziati anche un po' la gola diciamo la verità con le specialità questa non me la ricordo dei Melspeisen pasticcini portati a Vienna dai cuochi boemi dell'epoca c'era infatti un importantissimo rapporto una relazione tra l'Austria e la Bohemia che per un certo periodo non sempre per un certo periodo è stata sotto la dominazione negli Asburgo ma ne abbiamo già parlato ricordate no quando abbiamo parlato della guerra dei trent'anni non per molto diciamo così poi abbiamo la famosa questa l'ho mangiata assolutamente la Wienerschnitzel è una cotoletta viennese che assomiglia tra virgolette alla cotoletta milanese le trovo entrambe veramente da provare oppure gli gnocchi di albicocche questi non me li ricordo la zacher torte questa me la ricordo tantissimo lo strudel di mele anche questo assolutamente da provare le frittelle di ricotta le mezzelune alla vaniglia ecco sicuramente la zacher è una storia tutta sua no perché mai prima di quel pasticcere viennese a qualcuno era venuto in mente di accostare cioccolato e marmellata ancora oggi quando andiamo al bar e chiediamo una brioche o ci viene fatta una brioche con cioccolato oppure con la marmellata invece questo pasticcerebbe questa intuizione geniale di creare un dolce che fosse appunto farcito con marmellata di albicocche ma avvolto appunto da uno strato di cioccolato da ricordare e da assaggiare anche le Mozart bonbon le praline di marzapane farcite con pistacchio e ricoperte di gianduia perché è chiaro questo è il paese di Mozart bene è arrivato il momento adesso di parlare della storia ricordate che noi facciamo sempre degli interventi di geografia e storia e quindi dobbiamo ricordare le origini di questa città i primi insediamenti risalgono all'era paleolitica addirittura fu però nell'ottocento che si stabilirono in questa zona i Celti in seguito divenne sede di una legione romana dell'imperatore Augusto che qui costruì un quadrilatero fortificato da mura che prese il nome di Vindobona che sarebbe appunto la città antenata di Vienna chiamiamola così Vindobona successivamente fu distrutta dagli Unni e nell'ottavo secolo ricostruita fu inclusa nella marca orientale per volere di Carlo Magno da sempre una città quindi in una posizione strategica importantissima come Baluardo contro le invasioni provenienti da Este dal 1278 la città di Vienna fu guidata dalla casa imperiale asburgica con la reggenza di Rodolfo I e qui dobbiamo ricordare invece Dante che inveiva contro gli Asburgo a Dante non piaceva questa dinastia perché era una dinastia diciamo telesca insomma austriaca come volete chiamarla che era completamente disinteressata dell'Italia mentre invece per Dante l'imperatore del sacro romano impero doveva aver cura del giardino dell'impero quindi appunto dell'Italia qui intanto passa un'altra slide con il mercato di Vindobona c'è anche la porta di Vindobona è il momento dicevamo di arrivare a parlare degli Asburgo che hanno una storia quindi che risale appunto una potenza che risale addirittura al 1278 dopo la caduta infatti degli Hohenstaufen insomma della dinastia Sveva passati alcuni anni chiamiamoli così di interregno iniziarono ad esserci imperatori della casa degli Asburgo che poi furono eletti molte molte volte imperatori del Sacro Romano Impero sotto gli Asburgo Vienna ebbe un grande incremento culturale ed economico nel 1365 fu fondata l'università la prima perché poi aveva detto che ne fecero altre a Vienna si sviluppò come capitale imperiale dopo essersi liberata dall'assedio dei Turchi nel 1683 ah sì avete infatti sapere che i Turchi cercarono di assedere Vienna all'inizio del Cinquecento e verso la fine del Seicento 150 anni quindi sotto questa minaccia che fu scongiurata definitivamente dicevamo alla fine del Seicento grazie alla vittoria del principe Eugenio di Savoia ma anche con l'apporto decisivo dei polacchi ne abbiamo già parlato di questo assedio di Vienna nella nostra storia moderna contemporanea conobbe nel Settecento un enorme sviluppo soprattutto sotto l'impero di Maria Teresa d'Austria che possiamo vedere in questa slide a sinistra che fu regina e imperatrice quindi dal 1740 al 1780 poi con Francesco Giuseppe l'imperatore d'Austria divenne imperatore d'Austria ed Ungheria perché fu annesso il regno di Ungheria e Budapest divenne una sorta di seconda capitale di questo impero abbiamo già parlato prima del palazzo della secessione abbiamo deciso però di inserirlo qua nel momento della storia non nel momento della geografia perché questo ci dà modo di parlare della secessione appunto viennese secession stile per lo sviluppo straordinario di stili artistici sviluppati tra la fine del XVIII secolo inizio del XX secolo non solo a Vienna ma anche a Monaco di Baviera e a Berlino si creò insomma un movimento la Viene Secession che consistette nella creazione di un'associazione di artisti originariamente 19 artisti fra cui pittori e architetti che si staccarono dall'Accademia di Belle Arti per formare un gruppo autonomo dotato di una propria indipendenza e anche di una propria sede appunto questo palazzo della secessione viennese seguivano l'ideale della Gesamtkunstwerk cioè dell'opera d'arte totale questo era l'ideale esaltato dagli artisti della secessione viennese progettarono dipinsero deconarono anche questo palazzo in vista di una fusione completa delle arti nel 1898 a Vienna apparve la rivista secessionista Ver Sacrum da cui la definizione del periodo come Primavera Sacra Ver Sacrum in latino vuol dire proprio Primavera Sacra i principali fautori di questo movimento furono Gustav Klimt e qui potete vedere il famoso bacio di Klimt e Gonchile ne abbiamo parlato a proposito del Leopold Museum Coloman Moser Otto Wagner Max Fabiani Josef Maria Holbrich Karl Moll Josef Maria Auchenthaler Josef Hoffmann alcuni dei quali morti nel 1918 non tanto a causa della guerra ma a causa della quella influenza che poi si sarebbe diffusa ulteriormente che sarebbe l'influenza spagnola soprattutto poi nel 1919 e 20 perché come diceva qualcuno a partire dalla come dire dal 1629 ecco poi nel corso dei secoli quando si arriva intorno agli anni del 20 ti capita sempre una pandemia ogni riferimento è puramente casuale questo movimento contemporaneo ad altri movimenti simili sviluppati nel resto dell'Europa come l'art nouveau il modernismo ha una propensione a un certo recupero della tradizione ma con l'utilizzo di nuove tecniche e di nuovi materiali come possiamo vedere anche da questi straordinari dipinti ecco Vienna all'inizio del novecento fu il fulcro di una rivoluzione culturale che vide tra i suoi principali esponenti lo psicanalista Sigmund Freud che è proprio il padre tra l'altro della psicanalisi a Vienna esiste una casa museo cioè la sua casa dove c'è lo studio insomma di Sigmund Freud che è anche un museo ecco con la fine dicevamo della prima guerra mondiale Vienna non fu più la capitale di un impero ma di uno stato che nacque in questo periodo con il congresso di Versailles con la fine della prima guerra mondiale lo stato dell'Austria prima della guerra Vienna aveva raggiunto i due milioni di abitanti dopo il milenovecentodiciotto la popolazione diminuì come numero e infatti se non erro adesso a Vienna circa vive dopo lo vediamo mi sembra un milione e seicentomila abitanti una capitale quasi spropositata eccentrica rispetto a questo piccolo stato appunto dell'Austria un piccolo stato che aveva poco a che spartire con la grandezza dell'impero austro-ungarico ci fu quindi un calo demografico un calo economico che si accentuò con la seconda guerra mondiale nel 1938 l'Anchelus cioè l'annessione dell'Austria alla Germania di Hitler nel 45 arrivò l'armata rossa a Vienna per dieci anni l'Austria subì l'occupazione degli alleati solo nel 55 l'Austria riconquistò la sua libertà di indipendenza grazie al trattato di stato ecco poi fu costruita la cosiddetta ONU City nel 1979 infatti fu costruita la città dell'ONU che raggruppa nel suo modernissimo centro vicino al Danubio importanti organizzazioni delle Nazioni Unite oggi ecco qui dicevamo queste sono slide che non volevo farvi vedere questa è l'ultima che vi volevo far vedere oggi Vienna capitale dell'Austria costituisce uno stato federale autonomo non so se riuscite a intuire da questi colori come ci siano pochi stati in questa che è una repubblica federale chiamiamola così uno di questi stati corrisponde metropoli viennese che da sola rappresenta il 20% della popolazione austriaca presto su questi schermi una diretta live su Salisburgo una città austriaca alla quale sono profondamente legato anche per il mio amore per la musica indubbiamente e di cui parleremo in un'altra diretta live dedicata a questa straordinaria città che visitiamo insieme con i miei amici universitari quando andiamo a vedere appunto anche Vienna nel nostro viaggio nell'Austria e a Vienna vediamo se riusciamo a uscire adesso sì dovremmo essere riusciti allora interrompiamo la condivisione di StreamYard interrompiamo la condivisione di Facebook non riusciamo a interromperla non importa andiamo a leggere quindi le domande che sono state fatte dai nostri amici su Youtube perché su Facebook vedo solo un bel ciao dal mio grande amico Alessandro Regazzoni responsabile ultimo della biblioteca di Alduzzano e invece andiamo a leggere Gabriele Zafforlini anzitutto ciao Gabriele che anche lei ci sta seguendo dalla biblioteca comunale di Alduzzano si potrebbe dedicare una live all'UNESCO alla Nato alla FAO all'ONU all'OCDE o ECD insomma all'Organizzazione Mondiale del Commercio e dell'Economia sì anche se all'ONU no di sicuro perché l'abbiamo già fatta però le altre me le segno e vediamo di fare anche delle dirette live su questi argomenti FAO e OECD perché l'ONU l'abbiamo già fatto che differenza passa tra comune e municipio patriziato ecco come al solito Mermi mi fa delle domande che mi mettono in difficoltà allora voi dovete sapere che alcune parole hanno delle origini romane come municipio e patriziato municipio per esempio era una parola che indicava per i romani delle città alleate che avevano comunque il diritto munus avevano dei diritti che non avevano altre città sottomesse il patriziato corrisponde ai maggiorenti della città cioè i capi della città mentre il comune come ben sappiamo ha un'origine medievale e con questa me la voglio cavare solo con le origini ecco Melvin è stato sulla ruota panoramica di Londra sì si vuol dire Elisabetta sì la moglie di Francesco Giuseppe ecco di Mozart ricorda Melvin i notturni ripeto Mozart veramente anche se Matteo dice preferisco Beethoven perché Beethoven lo sappiamo rappresenta una diversa profondità di di angoscia se vogliamo di sentimento forse forse rispetto a Mozart ma tutto è opinabile andiamo avanti strudel di mele ovviamente grande classico Matteo strudel di mele però senza i fatto con le mele poi andiamo avanti ah sì infatti poi dopo si è corretto Matteo è possibile caricare una live sull'epidemia spagnola e una sulla muca pazza caricare già caricare se non ci sono io mi carico sulla sulla mia testa certe cose non non vanno in automatico eh allora eh certamente ce lo segniamo l'epidemia spagnola rientra il nostro piccolo progetto di storia contemporanea un progettino che prevede qualche centinaio di di video dirette perché sulla storia contemporanea ogni episodio per questo dicevamo della della spagnola o della mucca pazza eh come dire avrà la dignità sarà degna di una serata a parte grazie come sempre dei chiarimenti e delle condivisioni grazie a tutti and broadcast eh chiudiamo pertanto la nostra diretta su youtube poter